Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, è in partenza dal binario 3, ferma a Pescara, Termoli, Foggia, Barletta, Bari Centrale, Brindisi. Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8701 di Trenitalia delle ore 10 e 29 per Lecce, Ancona, stazione di Ancona, il treno Frecciabianca, 8801 di Trenitalia delle ore 11 e 29 per Lecce, Grazie a tutti. 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 a tutti.